Sono contentissimo, sono strafelice che sia arrivato a quel gol dopo magari vari assist eccetera però speriamo di continuare così e sappiamo che il campionato è lungo e siamo stati bravi a mantenere in equilibrio una partita che magari non è così facile venire a Dischia e un campo ostico siamo stati bravi a concretizzare le occasioni concesse e speriamo di continuare così Diciamo che il campo non esaltava le nostre caratteristiche però con lo spirito giusto e la voglia di sacrificio e andando in campo con la mentalità giusta si può vincere qualsiasi partita su qualsiasi campo e non c'è cosa che vada contro al nostro spirito e alla nostra voglia di vincere Siamo stati bravi anche dopo queste difficoltà a ottenere i tre punti grazie al mio gol o grazie al gol di qualcun altro tipo domenica scorsa ha toccato a Negro, Mendicino, Khalil domenica scorsa Khalil, poi altre partite a Negro, Mendicino quindi abbiamo dei vasti giocatori davanti che ci possono far vincere qualsiasi partita grazie a tutti grazie a tutti